Perché non sarete mai bravi scrittori? Non sarete mai bravi scrittori se continuate a non scrivere, è semplice. Se continuate a perdere tempo online a guardare video che vi dicono come diventare bravi scrittori, semplicemente non diventerete mai bravi scrittori. Se continuate a seguire blog, a leggere notizie, a cercare informazioni, consigli che vi dicono come essere più produttivi, che vi insegneranno il metodo per mettersi lì con la testa bassa e scrivere tante tante parole per tante tante ore al giorno, ecco non sarete mai dei bravi scrittori. Semplicemente lo scrittore scrive, non ha bisogno di nessuno che gli indichi la strada, scrive e basta. Scrivere è una passione, scrivere è una necessità, scrivere è un'esigenza che nasce dal profondo, che nasce da ferite, da cicatrici, scrivere è tutto ciò che volete, ok? Ma è qualcosa che vi appartiene, è qualcosa che avete dentro, è qualcosa che è molto lontano dal talento, guardate bene, ma è qualcosa che avete dentro, non c'è nessuno, nessuno in giro che possa dirvi, che possa consigliarvi come essere bravi scrittori. Dovete semplicemente scrivere, scrivere e basta. Non è così difficile, vi mettete lì e scrivete. Se non riuscite a scrivere, molto semplicemente, molto probabilmente non siete degli scrittori. Non siete degli scrittori. Mettetevi davanti allo specchio e ripetetelo 4, 5, 10, 20, 30 volte al giorno, fatevi questa domanda. Sono uno scrittore? Lo state facendo? Pensate di farlo? Avete già sbagliato. Dovete scrivere, non dovete perdere tempo con le cazzate che girano su internet. Lasciate stare i guru dell'informazione. Quelli sono lì, occupati e preoccupati soltanto di prendere like, di avere nuovi follower, di monetizzare i loro spazi. A nessuno importa una mazza, a nessuno frega un cazzo se voi diventerete bravi scrittori o meno. L'unica persona a cui deve interessare sul serio siete voi. Prima dovete capire se volete essere dei bravi scrittori. Ok? Quindi mettetevi a tavolino. Chiudete questo video. Non arrivate neanche alla fine. Fermatevi adesso. Mettetevi a tavolino e scrivete. Davanti a un computer e scrivete. Pezzo di carta con una matita e scrivete. Ma per carità scrivete. E' l'unico modo che avete per capire se siete degli scrittori. Non date retta a nessun altro se non a voi stessi. Non ci sono consigli che tengono. Non ci sono strade da percorrere. E' sempre tutto nuovo. E' sempre ogni strada. E' una nuova strada. Il percorso che porta ogni scrittore ad essere un buon scrittore è diverso per tutti. Dovete solo trovare il vostro. Lasciate perdere i consigli. Diffidate da chi vi... Da chi proverà a convincervi che potete essere buoni scrittori. Nella maggior parte dei casi siete dei mediocri scrittori. Sappiatelo. Quindi ora mettetevi a scrivere e provate a migliorare. L'unico modo per essere bravi scrittori è scrivere. Andate a scrivere. Subito.